Awe! Antonio! Eee, tutto su Cassini! Dai, io sono madonna me! Ciao! Da quanto tempo? Ti sei deciso finalmente? Eh, che vuoi da me? Eh, che mi dici? Eh, mo vengo dalla stazione dei treni che ho accompagnato mia moglie, che finalmente partiva per le vacanze. Sì, scusa, ci sono queste mani nere qua? Eh, fratello caro, ho accarezzato tutta la locomotiva! Allora, vabbè, vabbè, vabbè!